Così disse il venerabile Giorgio Lapira, prima che iniziassero i dialoghi sul Mediterraneo. Salgo a Laverna, perché considero Laverna il trampolino delle mie imprese di pace. Laverna è il luogo delle stigmate di San Francesco. Anch'io, col cuore e col pensiero, sono tante volte salito a Laverna in questi giorni. Carissimo Arcivescovo Franco, che con tanto calore e premura ci hai accolti nella tua Bari. Signor Presidente della Regione Puglia, signor Sindaco di Bari, membri del Comitato Scientifico, venerati fratelli. Eccoci assieme. Grazie di aver accolto l'invito che a nome della Chiesa italiana vi ho rivolto per questo momento di spiritualità e di riflessione. In questo nostro convenire prendono voce tutte le Chiese rivierasche. Siamo qui per riscoprire il significato di una comune appartenenza al Mediterraneo, quindi per attingere alla bellezza e alla forza della comunione fraterna e per mettere a fuoco una profezia di unità. La storia e la maestosità del castello, che ci accoglie grazie alla squisita ospitalità della città di Bari e della sua comunità, dicono molto della ricchezza e al tempo stesso delle contraddizioni del Mediterraneo. Questa fortificazione, più volta distrutta e ricostruita, è memoria indelebile della violenza che questa città nel corso della sua storia millenaria ha tante volte subito, per ultimo con un terribile bombardamento durante la Seconda Guerra Mondiale. Come sappiamo bene, carissimi fratelli, il Mediterraneo non è solo bellezza generata dall'incontro delle diversità, ma anche violenza che esplode a causa dell'incapacità di comporre i giochi di poteri, gli interessi contrapposti e le paure che queste stesse diversità possono alimentare. In prossimità del porto e della cattedrale, quindi del mare e della terra, questo castello testimonia che il Vangelo non giunge da nessuna parte se non incontrando la vita di persone concrete, con il loro vissuto di lingue, di culture, di attese e di speranza. Nessuna cattedrale esisterebbe senza porti, nemmeno nell'Europa continentale, tutte portano i segni e sono il frutto delle diverse modalità di comprendere, incarnare e trasmettere la fede di Gesù. Il Vangelo stesso, la vita cristiana vissuta fra i popoli, l'arte, la liturgia, la teologia hanno costituito, costituiscono e possono costituire ancora luogo di incontro e di sintesi, di genio e di creatività culturale a beneficio di tutti. Vi chiederete quali sentimenti, quali ricordi, quali principi ispiratori sono all'origine di questo nostro incontro. Da quando ho conosciuto il sindaco santo di Firenze, Giorgio Lapira, il Mediterraneo ha iniziato a parlare al mio cuore. Si è fatto poi annuncio e proposta due anni fa, quando ho cominciato a sentire dentro di me l'incontinibile sofferenza del mare Nostrum, ridotto a tomba di migliaia di fratelli, è così che mi sono ricordato delle parole pronunciate dalla Pira «Il Mediterraneo torni ad essere quello che fu». La peculiarità di questo ritrovarci, non in un convegno culturale, né per una conferenza, è quella di esprimere il nostro modo più autentico di vivere ed essere Chiesa, che dà voce alle difficoltà e alle domande dei popoli che si affacciano sul Mediterraneo, in un momento per tanti di loro che è davvero drammatico. Si tratta di un incontro fraterno, tappa di un percorso più ampio, un'iniziativa che ci chiama ad accogliere quanto lo Spirito saprà suscitare in un confronto e in una discussione che, ne siamo certi, avverrà con franchezza. La comune appartenenza mediterranea delle nostre Chiese, la nostra comunione con Petro e su Petro, la ricchezza delle nostre tradizioni, ci indicano nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità una vocazione comune, una vocazione che ci rimanda all'essere profondo della Chiesa. Essere Chiese che ritornano costantemente alle sorgenti della fede, per trasmettere ai giovani e alle future generazioni la bellezza e la gioia del risorto. Essere Chiese delle beatitudini, attente a far germinare una nuova cultura del Mediterraneo, che non può essere che cultura dell'incontro, dell'accoglienza, pena il disordine incontrollato, l'impoverimento diffuso e la distruzione di altre civiltà. Essere Chiese della profezia, rispetto ad ogni sistema di potere e di arricchimento che genera indifferenza, paure, chiusure e quindi iniquità, oppressione, guerre, crimini contro l'umanità. Essere Chiese dei martiri mediterranei, che sanno riconoscere i segni dei tempi e sono capaci di dialogo per disarmare ogni uso blasfemo del nome di Dio in odio al fratello. Carissimi, accogliendoci l'un l'altro, tocchiamo con mano la bellezza del mosaico, delle culture e delle tradizioni cristiane mediterranee, ma non possiamo non avere presenti i drammi che oggi vivono i nostri popoli. La bellezza e la sofferenza del Mediterraneo sono state presentate sin dalla preparazione di questo incontro che oltre al prezioso e competente lavoro del Comitato Scientifico Organizzativo si avvalsa delle voci delle Chiese mediterranee rimbalzate e diffuse grazie al servizio dei media. Che davvero ringrazio di cuore. Alla nostra voce si è unita quella di tanti monasteri di vita contemplativa sparsi per tutta l'area mediterranea. Le monache si sono incontrate nella preghiera e nello scambio epistolare per offrirci il contributo della loro riflessione e sostenerci con la loro condivisioni spirituali. hanno scritto da un monastero le nostre non sono preghiere devozionali le nostre preghiere vogliono essere un opus un'opera, un impegno, una collaborazione diretta a quello che voi fate l'importanza della preghiera. Ho avuto l'opportunità di viaggiare negli ultimi mesi e di toccare alcune nazioni del Mediterraneo quanta sofferenza quanta ingiustizia quanta indifferenza. Questo è il contesto nel quale siamo chiamati a vivere la nostra comune vocazione per una cultura dell'incontro e della pace nel Mediterraneo. Tale vocazione non può essere destinata a rimanere un semplice buon proposito ma è l'unica possibilità realistica di benessere e prosperità dei nostri popoli l'unica via che ne può assicurare la sopravvivenza è la guerra a essere una tremenda antiutopia una tragica farsa sulla pelle dei poveri nella complessità delle relazioni internazionali infatti la competizione fra le diverse potenze non può essere decisa con la forza delle armi pena la distruzione del pianeta nell'era dei droni e delle bombe nucleari nell'era in cui per la prima volta siamo costretti a fare i conti col fatto che le risorse della Terra non sono infinite e in quella in cui la scienza e la tecnologia hanno connesso il mondo mettendo l'uomo in condizione di distruggere o salvare il pianeta non c'è alternativa alla risoluzione pacifica delle controversie e alla collaborazione la tutela dell'ambiente e della salute umana necessita di un alto grado di costante collaborazione e scambio di informazioni di relazioni internazionali scientifiche culturali educative fondate sulla trasparenza sulla veridicità sulla fiducia la solidarietà fra i popoli e la capacità di darsi regole comuni per salvaguardare e promuovere la pace l'ambiente la dignità del lavoro la salute non sono sogni ma la condizione per garantire la sopravvivenza ordinata e pacifica del pianeta sono obiettivi a portata dell'umanità contemporanea e sono nel contempo il riflesso della verità profonda dell'uomo che Gesù Cristo ha rivelato e salvato soprattutto nel bacino del Mediterraneo dove convergono le tensioni e le contrapposizioni del mondo intero l'alternativa alla pace è il rischio di un caos incontrollato gli scontri terroristici e militari procurano morte e sofferenze indicibili alle popolazioni inermi la comunità internazionale e le organizzazioni sovranazionali gestiscono a fatica le crisi umanitarie che ne derivano tollerando spesso violazione ai diritti umani dobbiamo dire basta a questa politica fatta sul sangue dei popoli dobbiamo pretendere che le controversie internazionali siano affrontate e risolte nel quadro del diritto del bene comune e di una più forte più funzionale incisiva azione delle Nazioni Unite ne dobbiamo dimenticarci cari fratelli che il muro che divide i popoli è soprattutto un muro economico e di interessi c'è una frontiera invisibile nel Mediterraneo che separa i popoli della miseria da quelli del benessere e non conta se al di qua al di là di questa frontiera ci sono minoranze ricchissime e crescenti impoverimenti è stata tradita la promessa di sviluppo dei popoli usciti dagli iniqui sistemi coloniali del secolo scorso mentre sono ridotte le capacità degli stati più ricchi di condurre politiche sociali inclusive c'è un nesso inscindibile fra la povertà e l'instabilità non potrà mai esserci pace senza miglioramento di vita nelle aree depresse del Mediterraneo e nell'Africa sud-sariana non potrà esserci sviluppo sostenibile senza che cambino le regole che sottostanno ad una economia dell'iniquità che uccide come dice il Papa non potrà esserci arresto delle crisi migatorie e umanitarie senza che sia restituito ogni uomo ogni donna cittadini del mondo il diritto di restare nella propria patria a costruire un futuro migliore per sé e per la propria famiglia e senza che a questo diritto sia affiancato anche quello di spostarsi liberi di partire liberi di restare è la linea che come conferenza episcopale italiana ci siamo dati nella nostra azione solidale nei confronti dei popoli impoveriti un triplice dono c'è stato fatto nel secolo scorso in particolar modo col concilio Vaticano secondo quello di riconoscere il valore della divina liturgia teologica e canonica delle diverse tradizioni cristiane della comunione cattolica quello di intraprendere il cammino ecumenico fra le chiese quello di comprendere a partire dal mistero che ci unisce al popolo ebraico che il dialogo fra le diverse religioni è già testimonianza della gioia della risurrezione di Cristo e accoglimento del mistero della sua presenza di grazia nella storia degli uomini essere chiesa profetica che vive della beatitudine dei poveri degli affamati assetati di giustizia però non è possibile senza prima passare per il miserere dobbiamo riconoscere che fin dall'antichità cristiana le nostre divisioni ecclesiali hanno rincalcato e rinforzato le divisioni culturali politiche militari dei popoli mediterranei riconoscere il peccato della divisione della chiesa ci aiuta oggi a capire la grazia che ci è stata donata al concilio vaticano secondo la chiesa rovesciando le crociate per usare un'espressione di lapira e contrastando ogni mentalità del passato partecipa con convinzione al cammino ecumenico con la testimonianza della carità e della giustizia così come pratiche propone convintamente il dialogo interreligioso per questo le chiese e in particolare la sede apostolica negli ultimi trent'anni si sono trovate sempre dalla parte opposta rispetto a coloro che soffiano sul fuoco dello scontro delle civiltà e del fondamentalismo religioso cari fratelli le nostre chiese non sono diverse solo sulla base di antiche tradizioni che le sostengono e delle culture in cui sono chiaramente chiamate a portare l'annuncio del Vangelo ma anche per le condizioni concrete in cui vivono tutti però ci troviamo accumunati dalla sfida entusiasmante della trasmissione del Vangelo ci sono fra noi chiese che conoscono un incremento di fedeli connesso al fenomeno delle migrazioni così ci sono chiese che sussistono come minoranze piccolo seme in mezzo a popolazioni islamiche e soprattutto a queste chiese alla loro mediazione al sangue dei loro martiri che dobbiamo l'anticipazione e la recezione più profonda della dottrina conciliare sul dialogo interreligioso e con l'islam fra queste ve ne sono alcune che a causa dei rivolgimenti geopolitici degli ultimi trent'anni con le infinite guerre connesse hanno conosciuto e stanno conoscendo sfollamenti migrazioni con i loro cristiani esposti a persecuzioni e minacce che rischiano di cancellarne la presenza millenaria proprio in questi giorni è stata colpita dal jihadismo una comunità evangelica in Burkina Faso con ventiquattro morti ho sentito anche in altre circostanze le parole del Papa era una chiesa evangelica il Papa dice quando ti uccidono non ti domandano se sei cattolico se sei anglicano se sei protestante ti uccidono perché sei di Cristo parole del Papa come non far nostra la testimonianza di valore altissimo espressa nel testamento del beato Christian de Chergé martire in Algeria e gli dice nel suo testamento la mia morte evidentemente sembrerà dare ragione a quelli che mi hanno rapidamente trattato da ingenuo o da idealista vediamo adesso cosa è capace di dire come la pensa dopo che è stato ucciso ma queste persone debbono sapere che sarà finalmente liberata la mia curiosità più lancinante e queste parole le ha scritte prima di morire il testamento ecco potrò se a Dio piace immergere il mio sguardo in quello del Padre per contemplare con Lui i suoi figli dell'Islam così come li vede Lui illuminati dalla gloria del Cristo frutto della sua passione investiti del dono dello spirito la cui gioia segreta sarà sempre quella di stabilire la comunione giocando con le differenze fin quella testimonianza sulla sponda settentrionale del Mediterraneo i processi avanzati di secolarizzazione il congedo definitivo dell'eredità del passato e dobbiamo riconoscerlo la stessa lentezza con cui stiamo rispondendo alle esigenze di rinnovamento suggerite dal Concilio dalla nuova evangelizzazione e dalla conversione pastorale missionaria ci rendono attoniti di fronte al fatto che la fede è trasmessa solo a una minoranza delle nuove generazioni come aiutarci allora fra chiese ad abitare un'area mediterranea dove i cristiani sono dovunque una minoranza cari fratelli pur con le comprensibili differenze la trasmissione della fede nel contesto mediterraneo odierno è la sfida che ci accomuna tutti e siamo qui innanzitutto per questo la sfida che ci accomuna tutti credo che sia necessario e utile non solo il confronto fra vescovi ma anche l'impegno a far crescere la coscienza fra i nostri giovani che la fede in Gesù risorto genera comunione di vita per la crescita e la realizzazione di un'umanità compiuta come far maturare concretamente questa coscienza della comunione nella diversità nei nostri giovani essi ci risultano talvolta indecifrabili inseriti come sono in una rete globalizzata di relazioni e di appartenenze diverse riflesso di un'epoca in cui la stessa velocità di cambiamenti mette in crisi le modalità tradizionali di comunicare il Vangelo e di vivere la comunità ecclesiale a ciò si aggiunge la partenza dalle nostre terre di molti giovani in cerca di lavoro e di futuro con ripercussioni immediate nella loro progettualità familiare e nella vita ecclesiale e sociale l'Umbria l'Umbria dove io vivo è una piccola regione di 850.000 abitanti in dieci anni sono partiti 10.000 giovani alcuni sono venuti a salutarmi perché te ne vai perché qui non c'è lavoro vi dico che rimango ferito ferito come pastore dinanzi a queste affermazioni non vorrei sentirle più queste esperienze mi sembra di essere di fronte a quell'affermazione della Bibbia pueri pezierunt panem sed non era qui franger in teum chiedevano il pane i bambini ma non c'era chi glielo spezzasse carissimi fratelli lo ripeto spero che questo nostro ritrovarci sia l'avvio di un processo che ci consenta di condividere e offrire ai nostri popoli una visione non frammentaria ma complessiva organica dei problemi e delle ricchezze del Mediterraneo necessaria per superare le crisi che stiamo vivendo noi Vescovi non possiamo continuare a vedere la questione dei migranti in maniera settorializzata come se fosse solo un problema di esodi che impoveriscono i territori o di arrivi che li destabilizzano il povero che parte o che decide di restare che arriva e che purtroppo spesso muore durante il viaggio e conosce le sofferenze e ingiustizie indicibili è Cristo che emigra è Cristo che resta è Cristo che soffre e bussa alle nostre porte i problemi con cui ci misuriamo costituiscono uno stimolo ulteriore a superare noi per primi le barriere che attraversano il Mediterraneo e a intensificare l'incontro e la comunione fra noi ne avvertiamo la responsabilità e l'urgenza convinti come siamo che la tessitura di relazioni fraterne è condizione per partecipare al processo di integrazione ho più volte fatto riferimento al dialogo interecclesiale all'ecumenismo al dialogo interreligioso essi sono luoghi teologici e pastorali strumenti preziosi per la comprensione delle nostre realtà ecclesiali e per offrire il contributo alle sfide dell'area mediterranea in cui abitiamo abbiamo la grazia di vivere in una nuova coraggiosa coerente profetica fase di ricezione conciliare inaugurata dal ministero e dal magistero di Papa Francesco che con l'invito alla conversione pastorale e missionaria ci spinge ad una più intensa pratica della sinodalità che coinvolge il popolo di Dio nella sua infallibilità sin credendo il nostro incontro assume il metodo sinodale e vuole essere a servizio delle dinamiche della Chiesa del Mediterraneo per questo non abbiamo voluto che queste nostre giornate si riducessero a un convegno internazionale nutrito di dotte relazioni siamo qui invece per ascoltarci e porgere al Santo Padre Francesco quanto sarà emerso dal nostro scambio fraterno nella speranza che il cammino intrapreso continui e si rafforzi lo dico forte anche della tradizione viva della Chiesa di Bari dove col Papa Francesco si è vissuto uno storico incontro dei patriarchi del Medio Oriente il dialogo fra le regioni abramitiche a sua volta contribuisse a disegnare i fondamenti di un nuovo concetto di cittadinanza per far fronte alle sfide della globalizzazione del terzo millennio Papa Francesco e il grande Man di Al-Zar hanno posto un atto profetico con la loro amicizia e il documento sulla fratellanza umana per la pace mondiale e la convivenza comune come nota il cardinale Parolin in questo testo si intravedono le prospettive della comune e paritaria cittadinanza presupposto e conseguenza di una vera fratellanza la questione della cittadinanza è cruciale per tutti è questione che si pone in maniera nuova per gli stessi paesi di antica tradizione democratica e con le sfide dell'accoglienza e dell'integrazione dei migranti dello spazio pubblico reclamato da tutte le religioni paesi che si ritrovano a fare i conti con la pericolosa tentazione e involuzioni identitarie che minano il fondamento dei diritti inviolabili della persona nell'area mediterranea scrive padre Claudio Monge si confrontano non solo le religioni abramitiche ma anche un imponente fronte secolare distante da un riferimento religioso interiore e interiorizzato ma non per questo estraneo a una manipolazione identitaria della matrice religiosa trasformata in religione civile mi sembra molto profonda questa riflessione è questo il cambiamento d'epoca che siamo chiamati ad affrontare su noi pesa la responsabilità di essere promotori di quella conversione pastorale missionaria da cui dipende in tanti luoghi di antica cristianità la permanenza di una presenza significativa della chiesa aiutiamoci con paresia evangelica ad assumere il compito a cui lo spirito santo oggi ci chiama di tale compito sentiamo tutta la grandezza Aldo Moro un martire della terra che ci ospita un uomo come lo definì San Paolo VI buono mite saggio e innocente ucciso nel 78 dalle brigate rosse osservava con un misto di realismo e di fiducia forse il destino dell'uomo non è di realizzare pienamente la giustizia ma di avere perpetuamente della giustizia fame e sete ecco ci sia in tutti noi questa fame e questa sete della giustizia grazie 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 a tutti